Buongiorno e benvenuti in questo nuovo What Are You A Tina Day. Oggi vi propongo cosa mangio io in un giorno, in versione un po' light, perché come sapete sono una persona perenemente a dieta. Io ogni mattina, se non bevo il mio bel caffè e latte, non riesco proprio a svegliarmi. E quella mattina ho deciso di accompagnare il mio caffè e latte con una fetta di pane tostato. Questa qua la compro all'Eurospin, cioè questo pane, e ha tutti i semini all'interno, è buonissimo. L'ho tostata appunto, e ci ho messo all'interno della marmellata di pesca. Io uso questa monodose perché sennò mi vanno sempre a male. E niente, questa praticamente era la mia colazione, molto easy, e che la mattina mi dà una grande carica. Cioè io se non faccio colazione sto proprio male, ho bisogno del mio bel caffè e latte. E quindi niente, quella mattina ho appunto deciso di mangiare questo. Dopo la colazione, sinceramente non ho proprio il tempo di fare uno spuntino mattutino, perché tra pulizie e bimbi non riesco. Quindi passiamo direttamente al pranzo, dove io ho messo a marinare delle fettine di pollo, con olio, limone, e come spezie ho aggiunto la paprika, il peperoncino, l'aglio, un po' di prezzemolo, e poi cos'altro ci ho messo? Ci avrò messo qualche altra spezia, ma adesso non ricordo. Comunque è veramente, veramente buonissimo. Ve lo consiglio proprio, dovete assolutamente provarlo. E quel giorno avevo bollito appunto anche delle zucchine. Il pollo l'ho fatto semplicemente in padella, senza aggiungere olio né niente, perché la carne ce l'ha già. E ho accompagnato il tutto a dei finocchi, che io non condisco, e del pane di segale. Ok, e ora della merenda, andrò a mandare dello yogurt, questo qua, della faie, faie della fruglio, allo 0% di grassi. Questo qua è molto buono. E vi dico che si dice faie? Perché, adesso se lo trovo ve lo faccio vedere, si pronuncia faie, perché, vabbè, in tanti video ho visto che dicevano feige, o fudge, della feige, fudge, invece si pronuncia faie. Ve lo dice anche qua, eh. Quindi, questo qua ha pezzettini di pesca, senza conservanti e coloranti, uno yogurt e colato senza grassi. Allora, finalmente è ora di cena. E io sto mangiando dei peperoni stufati con un po' di aglio e prezzemolo, senza olio, proprio, li ho stufati con un po' d'acqua in padella. Qua ci sono delle scimette di rapa, che ho ripassato in padella, con un po' di aglio, un po' di pangrattato, un po' di parmigiano, sale e pepe. Qua c'è mezza scatoletta di tonno, quella grande, io ne ho usato metà. E qua c'è dell'insalata semplicissima iceberg, con un po' di... come si chiama? Vabbè, glassa, di aceto balsamico. E niente, questa è la mia cena. Ok, posta cena, se ho ancora fame, mangio di solito qualche noce, come sto facendo stasera. Andrò a mangiare qualche noce e mi sto facendo questo infuso della Bonovelli, che con pesca e ananas, ed è buonissimo, vi lo consiglio assolutamente. Ecco qua. E niente, questo era il mio Wozziatina Day, spero vi sia piaciuto, io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!